Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come accettare i nuovi termini partner per youtube ragazzi come potete vedere mi è arrivato un messaggio sulla mia email e quindi è arrivato questo banner sul creator studio quindi andate su gestione dei video e leggete e accettate tutti i nuovi termini per procedere alla monetizzazione sugli shorts quindi come potete vedere io ho accettato tutti i termini e qui c'è scritto che sono anche idoneo quindi inizio a guadagnare anche con i feed di shorts quindi metto attiva e dal primo febbraio in poi potrò monetizzarli secondo youtube dice che possiamo accettare i nuovi termini entro il mese di luglio quindi se non accettate questi termini entro il mese di luglio vi toglieranno la partner quindi si vi toglieranno proprio la monetizzazione sui video ecco qua l'annuncio e già eccolo qua quindi ragazzi non vi preoccupate non è che ve lo toglieranno per sempre la monetizzazione sui video sugli shorts ragazzi no potete fare di nuovo la revisione se avete 1000 iscritte e 4000 ore può aspettare aspettare un mese e fare tutto a capo quindi mi raccomando accettateli subito ok accettateli subito quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto come accettare i nuovi termini per youtube e rimanere partner per monetizzare i propri video e anche gli shorts quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie.